Weee! Non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi Patch Notes 7.3 Arrivata proprio oggi 5 febbraio con un sacco di novità super super interessanti Vi ricordo ragazzi che siamo con gli amici del gruppo Telegram Fortnite Italy Link in descrizione andate a dargli un'occhiata Che cosa c'è ragazzi in questa Patch Notes? Arriva finalmente il nuovo razzo bottiglia ragazzi Lo abbiamo visto nelle news presenti ufficiali in game E questo razzo permette di bersagliare un edificio nemico a gruppi multipli Quindi tanta tanta roba Arriva anche il nuovo falò bello e utile Chiama i tuoi amici e narra le altre avventure mentre guarite insieme Si potranno finalmente utilizzare i falò ragazzi All'interno della mappa con la nostra legna Arriva come nuova LTM il selvaggio West a coppie La conosciamo tutti Intanto ringrazio per le donazioni I ragazzi grazie Andrea Combatti per una vittoria reale usando un set limitato di armi e oggetto Insomma tutti quelli che vanno a richiamare il selvaggio West Parliamo un attimo ragazzi però del razzo bottiglie Quindi delle statistiche Ha come rarità non comune quindi è verde Un oggetto da lancio Che scaglia una salva di razzo bottiglie nella direzione del bersaglio Quindi un sacco di rocket verso un bersaglio Si può trovare nel bottino a terra Normalmente nei forzieri Nei distributori automatici Nei drop e nei lama Due è lo stack che possiamo trovare quando lo recuperiamo Massimo sei ne possiamo portare Scaglia 45 razzi in modo casuale all'interno di un cono A velocità diverse per circa 9 secondi 10 danni per ogni giocatore E 40 per ogni struttura colpita Parlando invece dei falò ragazzi Si accendono quando interagisci con loro Quindi quelli che troviamo nella mappa Si comportano come un falò confortevole Curando due unità di salute al secondo per 25 secondi Quindi 50 di salute per tutti Per sapere se un falò è stato utilizzato o meno Guarda se contiene ancora legna E può essere usato solo un falò a partita Cioè lo stesso falò non lo si può riutilizzare Hanno anche tolto lo stereo portatile Che sinceramente usavano in pochi Hanno ridotto dal 12% al 6% La probabilità di ricevere munizioni rocket Nelle scatole di munizioni Quindi più difficile trovare i rocket Invece hanno aumentato del 28.5% La forza di impulso della piattaforma di lancio Si va più lontani con la jump Non sarà più possibile trovare il pupazzo di neve Nei forzieri e hanno ridotto Dal 7% al 5,33% La possibilità di trovare la dinamite Nei forzieri Tante modifiche anche per la modalità creativa Nuovi oggetti anche lì Razo bottiglie Nuovi prefabbricati e arriva anche la nuova skin Zenith Per i giocatori di salva al mondo Più il nuovo Standardo per la sfida 6 Del frostlight Beh ragazzi questo era tutto l'update Della patch 7.3 Mi raccomando Se dovete ragazzi scioppazzare Non dimenticate di utilizzare il mio codice creatore Xyuderone Noi ci vediamo presto Ciao Ciao